Il mercato settimanale di Gualdo Tadino torna in piazza Federico II di Svevia con buona pace delle belle intenzioni che ne avevano animato lo spostamento circa due anni fa. Era il maggio 2020. Lo ha deciso l'amministrazione comunale, consultate le associazioni di categoria, ConfCommercio, FIV e ConfEsercenti, che hanno indicato nell'area antistante il centro sociale per anziani il luogo più amato dagli ambulanti e più vocato al servizio. Non ha prevalso la logica che più aveva spinto l'amministrazione comunale a spostarlo da quel luogo. Il tema cioè della sicurezza legato alla presenza in quell'area delle scuole medie e temporaneamente anche delle elementari. Nell'ora dell'uscita scolastica la concomitanza del mercato settimanale del giovedì dà vita ad una bolgia infernale che non poteva non arrivare all'attenzione di chi governa. Malgrado ciò però il 7 aprile ovvero domani si trasloca di nuovo e dal piazzale retrostante lo stadio comunale dove si trova ora il mercato del giovedì torna in piazza Federico II anche in virtù della tramontata ipotesi di riportarlo in centro storico. In uno degli ultimi incontri con la stampa in occasione della presentazione del piano parcheggi il sindaco Presciutti aveva reso nota la volontà di riportare il mercato del giovedì in centro per rianimare l'acropoli cittadina ma una relazione redatta dall'ingegnere Sergio Spigarelli ha certificato il fatto che in centro storico non sia possibile tenere eventi di natura permanente ma solo iniziative di carattere occasionale.